Il progetto distretti sul web è un progetto sviluppato da Google Union Camera con il patrocino del Ministero dello Sviluppo Economico che punta a diffondere la digitalizzazione in 20 distretti industriali italiani. Digitalizzazione in particolare delle piccole e medie imprese che compongono questi distretti. Io in particolare mi occuperò da qui alla fine dell'anno della digitalizzazione delle piccole e medie imprese del distretto della sedia di Manzano. Un progetto innovativo, è la prima volta che viene sviluppato da Google in collaborazione con Union Camera. È innovativo perché è la prima volta che viene fatto in tutto il mondo la possibilità di dare l'occasione alle piccole e medie imprese di conoscere quelli che sono gli strumenti che Internet mette a loro disposizione per ampliare il loro business, per aprirsi a nuovi mercati e per aumentare la visibilità sui motori di ricerca e su Internet in generale. È una possibilità che le piccole imprese devono cogliere e non devono farsi sfuggire. Perché Internet è il futuro. Sarà sempre più importante una presenza delle piccole e medie imprese su Internet e sul web. da inteso come sito Internet, inteso come social, nel caso delle piccole e medie imprese che producono prodotti finiti anche a livello di e-commerce, per tanto vendere i propri prodotti in Internet. Insomma, tutta una serie di strumenti, tutta una serie di opportunità che il web offre e che le imprese non devono farsi sfuggire. e non devono farsi sfuggire.